. Justin Bieber record, 100 milioni di followers su Twitter Sembra che in questi mesi una delle occupazioni di Justin Bieber sia giungere a nuovi traguardi, stavolta sui social network. Justin Bieber da record. Giovedì mattina Justin Bieber si è svegliato con una bella sorpresa, il suo account Twitter ha raggiunto i 100 milioni di followers. Una cifra che fa impressione, soprattutto considerando che è il secondo cantante al mondo che raggiunge questi numeri, la prima è stata Katy Perry, unica altra musicista a essere così seguita sul popolare social network. . Nella top 5 insieme a Katy Perry e Justin Bieber ci sono poi Taylor Swift con 85,5 milioni di followers, Rihanna con 76,9 milioni e Lady Gaga con 69,5 milioni. . Ma andiamo a vedere anche gli altri numeri di Justin Bieber su social network, ugualmente incredibili, per chi non lo sapesse, la pop star è stata menzionata più di 2 milioni di volte su Twitter e la parola Beliebber è stata usata 84 milioni di volte. . Il messaggio più ripreso di Justin sempre su Twitter e rimbalzato sul social per 638 mila volte è questo, siete tutte persone valide, a prescindere da quello che dicono gli altri. Siate forti, Dio è con tutti noi. . I miei Beliebbers hanno cambiato la mia vita, ve ne sarò grato per sempre. . 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 Adesso sta cercando un po' di serenità con l'aiuto del pastore Karl Lenz che, secondo quanto detto più volte da Justin Bieber, gli avrebbe cambiato letteralmente la vita, facendolo passare da ragazzo problematico e ribelle ad adulto responsabile e maturo, che sa quello che vuole. Grazie per la visione!